ciao ragazzi dopo dieci mesi che faccio video su youtube finalmente ho deciso di uscire allo scoperto avete chiesto in tantissimi di far vedere la mia faccia e finalmente ce l'avete qua in questi mesi mi avete fatto anche un sacco di domande a qualcuno ha risposto attraverso email o pure su facebook oppure su youtube però chiaramente siete tantissimi quindi ho deciso di fare un video dove esclusivamente risponderò alle domande che mi fate ci sono tre modi per farmi le varie domande 1 potete lasciare un commento qui a questo video 2 potete mandarmelo per facebook nella mia pagina facebook che vi indico anche qui nella descrizione e 3 potete mandarmelo su twitter con un hashtag che vi lascio poi nella descrizione tra una settimana quindi avete una settimana di tempo per mandarmi tutte le domande che volete io le guarderò sceglierò quelle che mi fate più spesso quelle che mi sembrano più simpatiche diciamo così cercate di non essere troppo cattivi e farò un video dove esclusivamente risponderò alle domande come vedete stare davanti a una telecamera non è la stessa cosa che stare dietro al microfono in questo momento sono un po imbarazzato vi dico la verità guardo la mia faccia nello schermo e dico madre mia ma quello non sono io a questi sono io in un momento abbastanza scomodo diciamo beh io direi che per oggi abbiamo finito aspetto le vostre domande vi aspetto anche martedì alle 7 7 e mezza come sempre per il nuovo video degli spiegati un saluto e alla prossima